benvenuti amici amici posso notare notare un parolone no no ti pre here's one and oh wow 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 ah raga sti pacchetti ho comprato stamattina non c'era niente sicuro non c'era niente wow aspetta non posso sbattere in safety ma come sta per finire ho fatto un cazzo dai no dai io penso io penso movimento scimmiesco del godo cos'è a che commento è a lo sto sfragni tutto scoppa spada vai via che cade quindi capito c'è quella lì è proprio quello di capisco per questa io soffro tanto di motion sickness ma l'arcobaleno no mi dà a dopo toccafalla antallar gallo eccola tra l'altro scelta scelta da eda tra l'altro ragazzi è chiaro che avete i microfoni della consola aperti vanno sentito si forza america sono morto benissimo benissimo perché questa mossa perché l'hai fatto ho visto il tradimento dei tuoi occhi non ho fatto niente è perdito solo come ho punciato la sezione aspetta 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 allora qua oh no ho lanciato la mamma oh mio dio capi ma ti fare un'idea che cazzo ci aiuto aiuto fermi prendetelo andiamo prendete lo scudo prendiamo quello che possiamo e andiamo se ne dobbiamo dobbiamo entrare incredibile coupon sconto bravo e arrivati ai cinque ho visto un alieno schiantarsi qui addosso un uomo tutto a posto tutto bene si è fatto male